amici benvenuti a questa nuova puntata della ced live l'appuntamento settimanale con gli esperti del settore una realizzazione prodotta da certificati e derivati e da ced lab prima di passare con gli approfondimenti e che abbiamo preparato con voi insieme a un ospite che farà mi farà compagnia in questa in questa in questa puntata vediamo innanzitutto i numeri della settimana quindi lancerei un servizio per vedere come si sono comportati i mercati e come sono andati i nostri certificati di investimento settimana all'insegna del recupero sui mercati azionari tutti i principali listini registrano infatti una performance positiva un recupero però a doppia velocità con l'america che si conferma avere una marcia in più rispetto ai listini del vecchio continente guardando infatti alla performance da inizio anno il nasdaq ha praticamente ricucito lo strappo ribassista mentre il foodsimib maglia nera degli stimi principali segna ancora un ritardo di ben 28 punti percentuali sempre segno rosso per l'euro stocks 50 a meno 23 per cento leggermente meglio il dax al meno 20 per cento il rally dei titoli tecnologici americani ha fatto aprire un significativo divario anche tra diversi listini statunitensi con il standard and poor 500 che accusa comunque un ritardo di 14 punti percentuali con i dow jones a meno 18 per cento guardando ai principali sottostanti dei certificati di investimento tra i flop di questa settimana il titolo tedesco herz a meno 21,25 per cento prezzo del greggio che segna un meno 18,23 per cento e appesantisce l'intero settore settimana contraddistinta ancora da vendite per il comparto delle avioline con american airlines united airlines e delta airlines che segnano ribassi nell'ordine del 10 per cento tra i top performer della settimana svette il recupero del titolo tesla capace di incrementare il proprio valore di ben 30 punti percentuali titoli tecnologici che occupano i restanti spazi di questa top ten con netflix e amazon il rialzo del 18 per cento seguiti dai titoli della componentistica come amd e nvidia bene anche nokia che recupera cinca il 10 per cento sui rumors di tech over stili sul titolo tra le variabili di mercato che è doveroso osservare soprattutto nell'attuale contesto la volatilità di mercato prosegue la sua discesa i vix statunitense viaggia in area a 39,6 mentre l'analogo europeo il bistox si attesta quota 41 siamo a metà strada tra i livelli medi dell'ultimo biennio in area 20 per cento i massimi storici raggiunti a fine marzo oltre soglia 85 per cento tra le novità della settimana ben 105 nuovi strike quotati sul secondario di cui quasi la totalità a capitale protetto condizionato con premi periodici eccoci allora un mercato che viaggia a doppia velocità anche oggi comunque all'insegna del recupero ma quello che vogliamo fare con questa con questo contributo video è quello di andare a vedere in che modo alcune variabili di mercato e alcune situazioni del tutto contingenti possano essere sfruttate tramite i certificati di investimento la volta scorsa abbiamo parlato di volatilità che tuttora rappresenta un driver particolarmente importante che influenza i prezzi e che oggi crea condizioni sicuramente eccezionali e opportunità di investimento conseguenti ma un altro tema che volevo analizzare con voi è quello del dei sottocento lo farò non da solo ma insieme a vincenzo gallo che do il benvenuto ciao vincenzo ciao giovanni e buonasera a tutti vincenzo gallo è responsabile dell'ufficio studi di certificati e derivati e analizzerà con me una situazione del tutto atipica che oggettivamente vincenzo non vedevamo credo dal 2011 questi spazi diciamo che si sono aperti eh sul segmento dei certificati a capitale protetto incondizionato e c'è un motivo per cui tutto questo si è reso possibile eh si è reso possibile perché ecco io ho messo qui un grafico eh del del famoso spread che ricordiamo essere eh il differenziale di rendimento tra un BTP decennale e l'analogo Bund tedesco di medesima scadenza che rappresenta un pochino quanto eh quanta tensione c'è chiamiamola così sul mercato obbligazionario dei titoli di stato eh spread che eh si muove non solo in considerazione di cattive notizie o comunque un sentiment negativo sul sui titoli di stato italiani perché eh viene influenzato anche dalla pressione eh di acquisti che eh sono soliti eh vedersi sul Bund tedesco considerato ecco bene rifugio per eccellenza però ecco ci dà una sensazione di come i rendimenti di mercato si stanno muovendo quello sì eh rispetto a eh un recupero che eh che c'è stato ecco lo vediamo lo vediamo dal grafico dal grafico che vi ho messo rispetto a un recupero che c'è stato eh nelle scorse settimane ecco lo spread sta tornando eh sta tornando a salire eh ecco Vincenzo eh aiutami tu eh perché monitoriamo eh questo spread e in particolar modo perché ci interessa eh per noi che facciamo analisi e osserviamo l'andamento dei certificati eh guardare in che modo si apre il differenziale o comunque eh i i rendimenti dei titoli di stato italiani aumentano e di conseguenza questo eh fa sì che anche i titoli adesso eh strettamente legati mi viene da pensare come molte banche italiane che sono ovviamente anche emittenti di certificates eh insomma hanno eh si ripercuotono nei prezzi dei certificati a capitale protetto incondizionato sì diciamo che che in questa situazione molto particolare con la pandemia che ha bloccato praticamente le economie di di tutto il mondo ovviamente anche i titoli di stato ma soprattutto lo lo stem creditizio dello stato italiano è stato messo a dura prova nel senso che ehm l'impatto economico della pandemia ovviamente ha fatto salire i problemi del debito già elevatissimo dello stato italiano quindi abbiamo visto questo incremento repentino del dello spread tra BTP e che è arrivato al suo massimo eh nelle scorse settimane fino a duecentottanta punti ricordiamo che 300 è la soglia critica oltre il quale ha creato diversi problemi già in passato e questo ovviamente si ripercuote un peggioramento dello stem creditizio dello stato si ripercuote anche sullo stem creditizio degli istituti bancari e quindi di conseguenza come dicevi tu Giovanni sul 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 merito di credito degli emittenti eh questo si riflette è una delle variabili che che in particolare eh si riflette sulle quotazioni dei certificati a capitale protetto che ovviamente essendo ricordiamo che i certificati sono al pari dell'obbligazione un'espressione del debito degli emittenti quindi al variare del dello stem creditizio degli emittenti varia anche il prezzo del certificato in questo senso quindi aumentando lo spread tra BTP e Bunda e di conseguenza lo stem creditizio del degli emittenti si sono create nuovamente delle opportunità che nei mesi scorsi si erano si erano praticamente esaurite quindi siamo ritornati a vedere la tabella dei sottocento dove ci sono dei rendimenti che in questo momento potrebbero risultare interessanti ecco vincenzo io possiamo sì infatti scusami se ti ho interrotto possiamo vedere ecco ho messo la scheda del ced lab perché la nostra piattaforma che ci aiuta nell'analisi dei certificati e è divisa anche in categorie una rappresenta proprio eh i sottocento che sono la classifica dei capitali protetto incondizionato che eh che quindi ecco farei vedere e ti farei illustrare perché si creano si sono create situazioni comunque molto interessanti e eh ti lascio la parola ma vorrei che poi alla fine eh ci dessi un tuo un tuo un tuo giudizio perché so per certo che ci arrivano diverse richieste anche di valutazioni di eh portafogli obbligazionari o comunque di richieste di eh diciamo di di check su alcune emissioni ecco guardando a questa a questa tabella eh ecco mi sentirei di dire che forse eh conviene più guardare con interesse per chi era abituato a guardare al mercato obbligazionario questi prodotti piuttosto che le obbligazioni semplici che sai che più della cellula non puoi avere qui magari c'è anche qualcosa qualcosa in più a cui a cui puntare sì diciamo che sono diversi gli aspetti che che rendono interessanti questi questi certificati il primo primo di tutti è la fiscalità ricordiamo che per chi ha uno zaino uno zainetto fiscale con delle minusvalenze i rendimenti offerti dei certificati vanno a compensare quindi diventano dei rendimenti netti quindi questo è un primo fattore molto importante il secondo come dicevi giustamente tu è che in alcuni casi oltre al capitale protetto eh c'è anche la possibilità di di aumentare il il profitto qualora i mercati andassero nella direzione giusta ehm vediamo un attimo nel dettaglio questa tabella dei sottocento praticamente qui questa è una classifica dei certificati a capitale protetto ehm che quotano al di sotto del rimborso eh protetto a scadenza cosa vuol dire che io in questo momento compro ad un prezzo inferiore rispetto a quello che sarà il rimborso garantito a scadenza garantito per garantito protetto perché ricordiamo sui certificati esiste sempre a pesca emittente quindi sostanzialmente sarebbero come potremmo considerarli come dei zero coupon nel senso compro prendiamo il primo ad esempio il il certificato di banca acros vedete che in questo momento quota 871 è rimborsa scadenza e minimo di 1000 euro quindi c'è questo differenziale del 14,73 per cento che spalmato negli anni abbiamo una scadenza 2025 da un vendimento del 3 per cento annuo ehm apriamo un attimo anche la scheda del certificato così ne vediamo bene le caratteristiche quindi dicevamo banca acros emittente banca acros quindi emittente del gruppo banco bpm scadenza febbraio 2025 il sottostante l'euro stock select dividend 30 con strike 1996 spot 1.273 ecco in questo caso per vedere il rendimento aggiuntivo ovviamente dovremmo raggiungere lo strike che è a livelli distanti però non impossibili vista la situazione del momento e quindi abbiamo questa situazione che vedevamo anche nella tabella dove in qualsiasi scenario almeno si viene restituito un rendimento del 14,73 per cento e solo al superamento dello strike c'è anche del rendimento aggiuntivo e altre caratteristiche quindi è molto semplice come funzionamento lo si sfrutta proprio come zero coupon bond questa è un po' la finalità e come questi poi ci sono tanti altri certificati che possono eh rifarsi a questa funzionalità quindi è tu volevo tornare sull'home page in modo da poter mostrare anche altre emissioni comunque sostanzialmente in questo momento le emissioni più interessanti sono queste di banca acros e ci sono anche le emissioni di banca e la tabella di sottocento oltre ad essere nel ced lab ricordo che viene pubblicata ogni tre settimane sul certifica di giorno la trovate gratuitamente sul certifica di giorno. Giovanni? Sì ecco Vincenzo infatti ecco io ehm è una situazione ripeto eh volatilità e eh sfruttare questa situazione sul sul lato rendimenti di mercato che sono eh un attimo stati rivisti a rialzo si sono create queste queste opportunità io ho la tabella sotto mano diciamo che i primi cinque eh su una scadenza tra eh inizio duemilaventicinque e inizio duemilaventiquattro viaggiamo tra un rendimento anno del due venticinque tre per cento diciamo che eh paradossalmente eh è in linea se non con qualche basis point addirittura di più rispetto alla all'andamento del BTP di analoghe scadenze ma qui oltre ad avere uno zero coupon sintetico sottostante che garantisce la restituzione del capitale abbiamo anche delle opzioni accessorie cioè è vero che eh gli strike sono nettamente distanti però eh i mercati nazionali ci hanno un po' abituato a tutto su questo quindi avendo una scadenza comunque di cinque barra cinque anni e mezzo beh quell'opzione potrebbe iniziare eh in un momento della loro vita apprezzarsi a iniziare ad apprezzarsi ecco quindi per chi ci chiede ma eh obbligazioni che ne pensate eccetera avendo questi rendimenti su fronte del con opzioni accessorie che comunque potrebbero iniziare ad avere valore ecco diciamo che eh questa tabella e questa tipologia di investimento potrebbe avere senso e avvicinare anche ai certificati di investimento quella clientela e quegli investitori eh che eh guardano con con diffidenza e rischio stiamo parlando sempre di capitale protetti incondizionati e comunque su emittenti da uno standing creditizio insomma in linea con il rischio Italia ecco eh quindi no davvero possiamo anche dire che comunque la scadenza è vero che 2024-2025 ma nel caso in cui le tensioni dovessero rientrare la situazione a normalizzarsi ovviamente il prezzo del certificato ne beneficerebbe e nulla ci dieta di eh venderelo sul mercato senza aspettare necessariamente la scadenza se abbiamo fatto il rendimento lo possiamo anche tranquillamente rendere dopo un anno o due anni o quando riteniamo opportuno certo comunque allora io ehm diciamo che sul format del del della nostra realizzazione video ecco abbiamo raggiunto il il tempo massimo che ci siamo che ci siamo prefissati eh ricordiamo che insomma abbiamo a disposizione questa piattaforma che eh mettiamo a disposizione ecco eh chiedeteci le le credenziali per un periodo di prova e poi insomma eh sul sul discorso dei prezzi potete trovare tutto quanto sul sul nostro sito sul sito del del chat lab è l'unica piattaforma che ehm in un certo senso l'ho chiamata così eh mette un po' di dinamicità al database che in forma gratuita distribuiamo su certificati e derivati quindi unendo il database con prezzi dei certificati prezzi dei sottostanti viene fuori il chat lab che è una piattaforma che consente di avere in un solo clic eh tutte le informazioni sul certificato tutti i prezzi tutte le cedole per i certificati eventualmente con premi periodici il lo scenario di rimborsa a scadenza che in questo momento è particolarmente utile e ci aiuta a eh selezionare quei certificati maggiormente interessanti rispetto ad altri e eh troverete delle tabelle quindi anche sottocento i migliori bonus cap le prossime scadenze e una tabella con la vetrina con i certificati che riteniamo essere più interessanti anche oggi direi di eh che abbiamo vi abbiamo presentato un tema e speriamo un punto di vista differente su cui guardare una categoria di prodotto che magari eh qualche investitore o non conosceva o diciamo snobbava tra virgolette lo abbiamo fatto insieme a Vincenzo che ringrazio Vincenzo Gallo del responsabile ufficio studi di certificati derivati che ringrazio del tempo che 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 mi ha dedicato spero che questo contributo sia stato sia stato utile e eh come sempre ci vediamo venerdì prossimo con ci sarà con me un altro ospite sempre del team di certificati e derivati e eh vi annuncio parleremo anche di un'altra eh fattispecie per utilizzare i certificati di investimento. Eh io vi lascio spero che questo contributo vi sia piaciuto lasciate i commenti qualora qualcosa non sia andato bene spero di no ma anche qualche suggerimento su dove eh volete che fossilizziamo la nostra attenzione e la nostra analisi ci vediamo settimana prossima per qualunque necessità questi sono i nostri siti quindi CEDLive è una produzione di certificati e derivati e CEDLive spero che insomma anche questo contributo sia stato di vostro gradimento buon fine settimana e ci vediamo benedì prossimo